Vi piacciono i miei piedoni, eh? Calzo un bel 46. Le scene che vedete sono tratte dal mio nuovo film, L'Ordine del Tempo. C'è anche Edoardo Leo. Gran bel pezzo di piedone pure lui. Presto un nuovo video. Guarda un po' anche Sibilla. Non ho provato Sibilla. Stefano. Hanno tutti il telefono staccato. Però aveva detto che non faceva tanto tardi. No, in realtà aveva detto domani e domenica posso stare più fuori. Dove? Non mi riesco a calmare, guarda. Magari mi prendo un'altra pasticchetta. Ma che pasticca? Lascia stare a prese, tre, non puoi... Basta queste cose. Ma ho visto che anche tu ne prese, tre. Ma non prese te perché sono più grande, lascia stare. Ti fa male, non te la posso dare un'altra. Hai paura? Ma perché io non riesco a guardare neanche le notizie dall'angoscia? No, ma non danno notizie. Se le danno cercano di non allarmare. Io neanche mi cambio, resto così. Non sto così. Sto così. Io penso di dovetti delle scuse. Io ho sempre odiato gli uomini narcisi e tu non lo sei mai stato. Sei sempre stato un uomo equilibrato, generoso, un buon padre. Sì, ma io non ti ho mai chiesto scusa veramente per quello... Vabbè, vabbè, ma non... Non mi devi chiedere scusa adesso, non serve. Poi... Io non ho mai sofferto per Jasmine. E quando... Quando l'ho scoperto, anzi... È stato quasi un sollievo, penso. Sono stato un'ecoista. Ma non me ne è mai importato dei vostri... Viaggi, dei vostri congressi in giro per il mondo. Poi ti dirò che... Mi è sempre stata simpatica Jasmine, in qualche modo, quindi... Vieni qui un attimo. Vieni qui un attimo. Vieni un attimo. Vieni qui.